Va bene, allora oggi facciamo quella chiacchierata che abbiamo rimandato da tempo perché c'erano argomenti più, diciamo quelli urgenti, di tipo più tecnico che si dovevano incastrare per permettere di lavorare in laboratorio e questa chiacchierata si collega idealmente al discorso che abbiamo fatto sui sistemi di classificazione che erano, se vogliamo, il framework concettuale che permette la costruzione di quelli che ho cercato di chiamare con un termine molto generale sistemi informativi per la gestione della conoscenza e spenderemo un po' di tempo per capire o soprattutto per cercare di orientarci nella confusione sia terminologica che funzionale che esiste in questo tipo di sistemi, quindi spenderemo un po' di tempo a vedere una serie di definizioni di sigle, di acronimi che si trovano comunemente usati nel mondo aziendale e poi proveremo a aprire la scatola e vedere un sistema di ECM, una delle sigle che definiremo, che sta per Enterprise Content Management, quindi il sistema di gestione di contenuto di classe Enterprise, di cui vedremo quali sono le caratteristiche principali. È un mondo molto ampio, con prodotti che sono applicabili praticamente a tutti i settori aziendali. Allora di che cosa stiamo parlando? Parliamo di sistemi informativi in grado di gestire l'informazione aziendale, questa è una definizione forse troppo generale, informazioni che però sono tendenzialmente raccolte sotto forme di documenti. In qualunque processo, in qualunque azienda, alla fine la documentazione è una parte purtroppo essenziale che si affianca, alcune, chiamo così, aziende che lavorano nel cosiddetto settore della conoscenza, i documenti sono prodotti, in altri casi affiancano chiaramente i processi di sviluppo di prodotto, ma vengono molto spesso, da quando è nata l'informatica, gestiti in modo per nulla ottimale. Se pensate, magari immaginate le vostre conoscenze, una cosa molto semplice come la posta elettronica, oppure l'organizzazione dei documenti sui sparsi per i pc, per le cartelle delle persone che lavorano in un ufficio in una piccola impresa. Quando va bene è un caos, quando va male si perdono le informazioni, quindi non solo sono difficili da trovare, ma magari non hai le politiche di backup, non hai le politiche di condivisione e quindi rischi poi effettivamente di perdere le informazioni. Noi viviamo in un mondo in cui in realtà la documentazione elettronica che dovrebbe fare, o tende a fare la parte principale, non è unica, ma è ancora affiancata da documentazione cartacea di vario tipo. Quindi viviamo in sistemi in cui abbiamo tanta carta che gira, tanti file che girano, ma quasi nessun o pochissimi modelli organizzativi e strumenti operativi per poter gestire tutte queste informazioni. Quindi magari mentre abbiamo un ERP che mi gestisce perfettamente la produzione, l'approvvigionamento, eccetera, eccetera, poi per quanto riguarda la documentazione, la comunicazione, comunicazione a tutti i livelli, che va dalla comunicazione interna all'azienda, alla comunicazione di marketing, alla comunicazione con i clienti per quanto riguarda magari il processo di negoziazione o con i fornitori, e questo è ancora, in molti casi, tende ad essere gestito in modo, sì, ho una cartellina dove c'è il fax, ho le mail, le organizzo in un certo modo, ma è molto ancora lasciato purtroppo all'iniziativa individuale e questo chiaramente non scala bene, non è compatibile con un concetto di tipo enterprise. Vabbè, non sto scoprendo l'acqua calda, nel senso che è ovvio che questo sia un problema e una delle possibili soluzioni è la costruzione di appositi sistemi informativi che proprio gestiscano il ciclo di vita di questa documentazione. Talmente banale che anziché una soluzione ce ne sono almeno 100, perché finché sto sul generale e dico gestire il ciclo di vita della documentazione è facile, ci capiamo, ma poi quando cominciamo a entrare nel merito e ci chiediamo di che tipo di documentazione stai parlando e poi ovviamente che tipo di ciclo di vita avrà quel tipo di documento. Allora a seconda che stiamo parlando di documentazione tecnica, che stiamo parlando di articoli divulgativi, quindi promozione o comunicazione, a seconda che stiamo parlando di contenuti formativi, quindi corsi, lezioni, pensate al training che è una buona parte del lavoro del risorso umano nelle aziende dalle medie dimensioni in avanti, gestiscono tutti documenti, dai documenti ufficiali, documenti che devono essere registrati, protocollati perché hanno un valore contrattuale o in alcuni casi un valore legale. Sono tutte tipologie di documenti, documenti digitali, filmati, audio, eccetera, che esistono, coesistono e hanno delle modalità di gestione, ma anche degli obiettivi funzionali diversi. E quindi sono nati nelle varie nicchie tutta una serie di applicativi di cui qua sono riassunte le sigle, adesso proviamo a scorrere insieme una possibile definizione per ciascuna di queste. Io queste palle qui le ho disegnate leggermente sovrapposte, in modo più o meno casuale, non sono stato lì a vedere chi sovrapporre con chi, ma per darci l'idea che in realtà poi i confini tra un tipo di sistema e l'altro non sono per nulla definiti. E anzi, ci sono dei sistemi che tendono a fare o dicono che riescono a fare tutte queste cose, ci sono dei sistemi che si chiamano in un modo ma fanno una cosa diversa, quindi non c'è molta uniformità e molta standardizzazione in questa terminologia. Quindi adesso che andiamo a vedere, a leggere queste definizioni, io vi inviterei a intendere non come definizione dell'acronimo che rappresenta un prodotto, ma definizione dell'acronimo che rappresenta un insieme di funzionalità che sono adatte a gestire un certo tipo di documentazione e che sarà gestita in un certo modo, diversi tra di loro, dopodiché il mapping tra le funzionalità e i prodotti, diciamo così a scaffale, che potete andare a comprare per gestire, i sistemi informativi che possono gestire queste cose, ecco il mapping tra le funzionalità e i prodotti è qualcosa di più complesso che non si può, non dobbiamo fermarci solamente alle sigle perché ogni fornitore chiama in modo diverso le stesse funzioni o viceversa. Allora, la definizione di base è quella del sistema di gestione dei contenuti, no? Content Management System, poi nell'ultima slide di questa presentazione ci sono i link da cui ho tratto queste definizioni, a chi poi si interessa andare a vedere articoli correlati delle stesse persone, ho estratto diciamo così il succo. I sistemi di gestione dei contenuti sono quelli che supportano creazione, gestione, distribuzione, pubblicazione e scoperta di informazioni corporate, informazioni aziendali. In realtà questa definizione sembrerebbe molto generale, nella pratica i CMS sono diventati un sinonimo di quelli che sarebbero i web CMS, quindi ci sarebbe qua davanti una W che sta per sistemi di gestione di contenuti su web che normalmente si omette, non si usa, non si riporta. Per cui una definizione che sembra una definizione molto generale, in realtà viene usata in un campo molto più specifico. Tanto per fare un esempio, i CMS tipicamente sono gli software per la creazione di siti, no? I più famosi tra quelli di open source, c'è Wordpress, c'è Joomla, c'è Drupal, prodotti di questo genere, che aiutano la costruzione di un sito e caricare dei contenuti, quindi pubblicare dei contenuti tendenzialmente su web. E quindi su siti, si parla di siti aziendali oppure su siti intranet, questo è abbastanza indifferente dal punto di vista del software. Quindi quando parliamo di CMS, normalmente viene subito in mente, ok, un CMS mi serve per gestire informazione che andrà a finire in un sito web. Quindi i documenti di cui stiamo parlando, l'informazione documentale è le pagine web che sto creando. Tipo le nostre pagine del sito del corso girano su un CMS che si chiama Joomla. E quando volevo aggiungere informazione, lavoro con quel CMS per aggiornare i documenti, cioè le pagine web, gli allegati, i pdf, eccetera. Poi a volte c'è una E davanti che dice, sì, ma CMS di tipo Enterprise. Di tipo Enterprise significa che oltre al sistema di pubblicazione web, che ormai si dà per scontato chi ci sia, se non altro come accesso interno, deve avere una serie di funzionalità aggiuntive, tipicamente si deve poter integrare con gli altri sistemi informativi nel contesto Enterprise dell'azienda. Quindi tipicamente, ad esempio, caratteristiche di collaborazione tra utenti e collaborazione con altri tipi di strumenti. E questo è, se vogliamo, la definizione più generale, il sistema più complesso, quello che a un certo punto perde la S, questa sigla, e spesso si chiama semplicemente ECM, Enterprise Content Management. Quando si parla di Enterprise Content Management in realtà si parla di tutto, dell'insieme complessivo di tutte queste funzionalità. Questi Enterprise Content Management in realtà dentro hanno funzionalità diverse, che, diciamo così, hanno assorbito funzionalità che arrivavano da sistemi più di nicchie, più verticali, precedenti, tra cui ad esempio il DMS, Documenting System. Documenting System è un sistema per organizzare documenti. La differenza tra un CMS e un DMS, dice, ma che differenza c'è tra contenuto e documento? No, il CMS, abbiamo detto, assume la connotazione web. Quindi mi serve per gestire un sito di un certo tipo. Un Documenting System mi serve per organizzare, archiviare, ricercare, grosse moli di documentazione strutturata. E quindi lì di fatto si parla di repositori di informazione. Informazione che in realtà può essere semplicemente poi memorizzata, ma soprattutto, quindi memorizzata per poter essere ricercata, e quindi qui dentro questi sistemi la fa la parte da padrone la possibilità di ricercare informazione. Perché se io ho un sistema in cui butto dentro 10.000 PDF, 40.000 PowerPoint e altre cose del genere, poi la capacità di riuscire a ritrovare le informazioni con magari il sistema di versionamento successivo, sistema di chiaramente riconoscimento degli autori, eccetera, ma soprattutto la cosa più importante è riuscire a trovare le informazioni. Quindi è lì dove le aziende che sono forti nel motore di ricerca, nell'analisi del full text, dei documenti testuali e in alcuni casi anche delle immagini, fanno la parte da padrone su questo tipo di prodotti. Perché poi avere tanto hard disk su cui metto tanti documenti e ti permetto di caricarli è facile. Il problema è permetterti di organizzarli e ricercarli velocemente. Ma poi l'altra caratteristica di questi signori è che non solo gestiscono, dicevamo, la memorizzazione e soprattutto la ricerca, ma gestiscono un workflow, un flusso di lavorazione, un flusso di passaggi successivi che devono subire questi documenti. Ad esempio, la cosa più semplice, pensate ai vari sistemi di qualità, qualunque documento deve avere un suo codice che è assegnato da qualcuno, da un ufficio che assegna i codici, deve avere molto chiaramente indicato a un autore chi l'ha scritto, chi l'ha approvato, che versione è, in che data è stato rilasciato, chi è stato distribuito. Vabbè, requisiti che sappiamo fanno parte di tutti i sistemi di qualità, requisiti sulla documentazione. Ecco, il document manager system deve permettermi di descrivere qual è la sequenza di passi logiche, la sequenza di stati in cui un documento si trova e quindi sapere se quel documento è in forma bozza, in forma distribuita, in forma pubblicata, in forma approvata, non esiste un workflow unico, non esiste una sequenza di stati unica perché ogni azienda avrà le sue. E quindi questi sistemi di documentazione system devono innanzitutto permettermi di definire i miei workflow. Guarda, per quel tipo di documento il flusso è questo, per un altro tipo di documento, che ne so, un'offerta commerciale, il flusso è diverso. Allora io devo definire questi flussi e il sistema è in grado poi di mandarmi avanti, gestirmi i documenti nelle varie fasi, a cui posso poi normalmente associare delle azioni. Cioè quando, che ne so, un'offerta commerciale arriva in uno stato di approvata, vorrà dire che avrà come allegato una mail o una lettera o un fax di accettazione da parte del cliente, ma allora io posso programmare il documento nel sistema in modo che trasli automaticamente queste informazioni e le mandi una copia, che ne so, all'ufficio vendite, in modo che poi possa procedere. Quindi non c'è solamente un flusso di stati attraverso cui il documento passa, ma visto che parliamo di sistemi informativi integrati, alcuni passaggi possono coinvolgere altre parti della realtà aziendale. Quindi qui abbiamo, se vogliamo, i due obiettivi. Uno è quello di gestire e memorizzare e mantenere tutti i documenti in un posto possibilmente centralizzato. E qui normalmente si parla sia di documenti in termini di file, sia spesso anche appunto di comunicazione, tipo posta elettronica, che è essenzialmente molto più voluminosa, e però a volte contiene informazioni che serve gestire. E quindi sia gestione di informazioni, sia soprattutto poi interazione e gestione dei flussi delle operazioni che vengono fatte. Le risorse qui sono gestite, qui ci sono risorse di tipo elettronico, ma magari provengono da fonti di tipo cartaceo, non sempre tutte le risorse, ancora al giorno d'oggi, nascono in modo elettronico. La sigla record management, RM, è una nicchia del document management che fa riferimento a delle normative aggiuntive per cui un documento può essere, può avere un valore ufficiale. Un record è, viene inteso qua, come un documento ufficiale. Quindi non è solamente la memo, le minute delle riunioni che abbiamo fatto l'altro ieri, l'abbiamo caricata lì, l'abbiamo caricata nell'area di quel progetto perché è relativa a quel tipo di meeting. No, quello è un documento ufficiale che magari ha un valore contrattuale o un valore legale, allora deve essere archiviato in un certo modo, riconoscibile, protocollato, eccetera, eccetera. Quindi questi sistemi tipicamente, dal punto di vista tecnico, non è che siano molto diversi dai DMS, dai document manager system. Il fatto è che poi sono certificati in funzione delle normative nazionali sulla digitalizzazione. Tutte le nazioni ci sono, diciamo, in fase di sviluppo le varie normative per la cosiddetta dematerializzazione degli atti, per cui riuscire a dare un valore legale, è una cosa che succede ad esempio anche da noi, della segreteria studenti, al giorno d'oggi voi riuscite a dare un esame senza mai vedere un pezzo di carta con una firma su cui questo esame sia registrato. Va bene, no? Vi fidate che la segreteria studenti non perde i voti, vi fidate che il docente registri il voto giusto, ma al di là del vi fidate, che se vogliamo è una componente di processo, che si è instaurata, c'è poi un valore legale dietro. E allora che quel dato che è scritto nel database che dice che tu hai 28, quel dato lì, alla fine della carriera, quando il politico ti lascia il titolo, quel numerino lì non è solo un campo di un database che se conoscete il sistemista della gestione didattica magari ve lo alza. Non è solo così. Quindi di fatto c'è tutto un sistema inutile per noi che però conferma che quei voti, quelle quantità, memorizzazioni non cancellabili, non ripetibili, che vanno a tracciare la storia di che cosa viene fatto in un formato che sia esportato, messo off-site, come si dice, controllabile tramite audit nel caso di... Per dare appunto, sostituire quello che una volta era il pezzo di carta, con la firma sotto, lo porto dal notario, me lo faccio registrare, quello è, non può più essere cambiato. E qui la stessa cosa, ma va replicata in forma elettronica, non solo in senso funzionale, cioè fare in modo che funzioni, ma anche in senso legale, perché poi alla fine se ci sono le contestazioni, c'è una causa, uno deve avere organizzato il sistema informativo in modo da potersi difendibili anche da quel punto di vista. Quindi sono le complessità in più che sono legate molto spesso alle normative specifiche nazionali. Vabbè, questi due sono di nuovo nicchie. Digital Access Management tipicamente sono i sistemi di gestione dei documenti che sono in grado di trattare anche risorse di tipo multimediali, quindi fotografie, filmati, registrazioni audio, alla fine sono queste tre. Ma anche, pensate ai disegni CAD, di un studio di architettura, o di ingegneria civile, o di ingegneria meccanica, quanta dell'informazione è sotto forma di disegni, di fotografie, di bozzetti, di progetti CAD e cose di questo genere. Questi non sono la stessa cosa che un file word, se non altro dal punto di vista della funzionalità di ricerca, mentre un file word, bene o male, posso andare a vedere il testo e quindi rendere questo testo ricercabile per parole chiave, in un documento tecnico, in un'immagine, e questo non avviene e quindi devo lavorare molto di più sui metadati che non sul contenuto del dispositivo. Oltre al fatto che la dimensione, il peso, in megabyte o gigabyte di questi contenuti è molto maggiore. E in più, come ci suggerisce l'ultima frasetta di questa definizione, spesso le produzioni multimediali sono associati anche ai diritti d'autore particolari. dove è un filmato, c'è la colonna sonora, da chi arriva, e allora finché stiamo all'interno dell'azienda non interessa, ma quando poi questi contenuti magari vanno a finire sul CMS aziendale, il problema è del diritto d'autore e quindi la protezione poi di quel contenuto, fare in modo che altri non lo possano modificare, eccetera. Ma poi il problema del DRM è un problema molto dibattuto al giorno d'oggi sul fatto che ad esempio la musica o i video debbano o non debbano essere protetti, che cosa è meglio dal punto di vista dell'utente, beh, cosa è facile, cosa è meglio dal punto di vista dell'industria. Vabbè, poi c'è una sotto caso di questi sistemi che diciamo così sono limitati a contenuti multimediali per la promozione del marchio, quindi per la parte di marketing, ma se vogliamo è solamente un nome diverso di questi sistemi. Poi ci sono dei sistemi più di nicchia, ad esempio ho delle singole componenti, sono Library Management System per gestione di biblioteche, che sono stati tra i primi grossi, perché il business principale delle biblioteche è quello di gestire documenti appunto fisici o elettronici, quindi questi sono nati tendenzialmente prima degli altri, perché non avevano bisogno di, visto che c'era l'oggetto fisico, libro, non avevano bisogno di memorizzare il contenuto del libro stesso, ma semplicemente di tracciarne la presenza. Questo lo cito solamente perché la sigla LMS nel prossimo slide significa una cosa diversa, quindi per dare un warning sulla confusione terminologica. Ci sono dei sistemi che, questo di nuovo un altro elemento di nicchia, di integrazione tra il mondo cartaceo e il mondo elettronico. Adesso poi tra un attimo andiamo a vedere quali sono alcuni principali player di questo campo, però dicevamo molta dell'informazione al giorno d'oggi nasce e percorre tutto il proprio ciclo di vita in formato elettronico, ma molta è ancora in formato cartaceo e quindi è necessario, cioè in un sistema di gestione dei contenuti complessivo a livello enterprise ci sarà una buona parte che è richiesta per importare contenuti che nascono, che entrano in azienda in forma cartacea e quindi diciamo così, scanner, ma poi il problema non è tanto farlo scanner, che vabbè compri un armadio di fotocopiatrice scanner e fa quello, il problema è che una volta che il documento è scansito devo archiviarlo in un modo più possibile automatico. Ecco, poi ci sono questi due sigle, tra cui una è l'MS uguale a quella di prima, vuol dire una cosa diversa, che sono relative ai sistemi di gestione dei contenuti formativi, quindi si distingue spesso tra un learning management system, che è un sistema di gestione della formazione, quindi sistemi attraverso cui di fatto potete seguire dei corsi online, si possono seguire dei contenuti formativi, fare dei quiz, fare dei test, vedere delle slide, cose di questo genere. E questi sono l'MS, tipicamente la piattaforma di learning vista dall'utente che studia, mentre invece c'è una parte sottostante che è la parte della piattaforma che è vista dal docente che prepara il materiale e questo tradizionalmente ha un nome diverso che si chiama learning content management system, quindi il sistema di gestione del contenuto formativo, LCMS, che è separato dal sistema di erogazione della formazione. Allora, quello sotto è più un CMS, nel senso che io lì creo i contenuti, creo le lezioni, creo i quiz, eccetera. Quello sopra è un sistema di erogazione in cui la parte principale non è solamente che differenza c'è tra un LMS e un CMS normale, non basta metterli su un sito come faccio io sul sito del corso, no, quella non è formazione online, perché quello è documenti messi lì allo sbaraglio, organizzati, diciamo così, in un modo, spero, un pochino logico, ma niente di più. Un LMS di fatto alla fine deve certificare un percorso formativo, e certificare un percorso formativo significa come minimo tracciare che cosa fanno gli utenti, l'utente quante cose ha visto, quali quiz ha superato, quanto tempo è stato su quella pagina, ci sono state le parti del corso che proprio non ha manco guardato, le ha guardate tutte, cose di questo genere, quindi il fatto di avere la tracciabilità, la certificazione che il corso è stato effettivamente seguito e l'esame è stato superato, questi sistemi in università non li vedete, perché noi abbiamo ancora nel bene e nel male una didattica di tipo tradizionale, ma sono molto diffusi in ambito aziendale, dove hai, che ne so, il fornitore, la Fiat di turno che crea un nuovo modello e deve formare tutti i venditori della propria forza vendita in Italia, in Europa e nel mondo. Si sta cercando sempre più di passare dal modello in cui i rappresentanti delle varie aree vendita vengono o vengono partecipano a un seminario in cui c'è uno che gli racconta le cose e poi a loro volta devono replicare questo nel loro aree, si sta passando sempre di più a un modello in cui se un sistema formativo online e i concessionari, i venditori, i responsabili devono vedere quel contenuto e diciamo così la casa madre lo verifica, lo certifica. Questo è ancora un esempio facile, gli esempi più complicati sono la formazione tecnica rimanendo nel campo automotive delle officine. Esce un nuovo tipo di motore quando in officina alzano il cofano si presume che sappiano dove mettere le mani però non hanno partecipato alla progettazione di quel motore lì lo vedono arrivare quando arrivano le prime macchine quindi come fanno a conoscere le procedure ormai i manuali tecnici sono scomparsi. Quindi questi sono di nuovo una nicchia specifica dell'intero panorama degli ECM che riguarda la formazione. Un'altra nicchia è quella dei sistemi che esiste una documentazione geospaziale parliamo dalle mappe andare in su però questi sono ancora un po' diversi perché hanno una natura abbastanza numerica rispetto agli altri che le altre cose che sono di tipo invece più testuale. Ma questa è un po' una carrellata di varie sigle che rappresentano vari pezzettini mi è piaciuta questa figura quando l'ho trovata che mette insieme un po' tutto in cui fa vedere che ci sono questi sistemi di gestione della conoscenza al di sotto ci sono le tecnologie la parte bassa di questa figura vediamo le tecnologie che ne so le internet i motori di ricerca i document management system quindi DMS che abbiamo definito prima sistemi di gestione del workflow sistemi di gestione del lavoro in gruppo CBL CBT è una sigla vecchia che non si usa più da dieci anni ma a volte si trova ancora sta per computer based training che significa online learning e cose di questo genere tutte queste tecnologie di fatto vengono applicate e nella parte alta ci sono le verticalizzazioni possibili i domini in cui queste tecnologie possono essere applicate che vanno che ne so gestione della documentazione di prodotto gestione del contenuto a livello enterprise gestione strategica dell'enterprise gestione dei processi gestione della formazione in e-learning gestione della relazione con i clienti eccetera eccetera è effettivamente un nodo centrale in cui le varie tecnologie contribuiscono a costruire un sistema di gestione della conoscenza e della documentazione che man mano che saliamo si specializza sempre di più nelle varie funzioni aziendali che quando le cose vanno bene vanno a pescare tutte da un'unica grossa base di conoscenza aziendale le parti a sinistra e destra sono quelle sono gli aspetti organizzativi non tecnologici che sono coinvolti in un sistema di gestione documentale quindi tutta la parte riguarda la memoria aziendale memoria organizzativa tutta la parte legata alle dinamiche interne quindi i due lati non sono tecnologici quello sotto e quello sopra invece sì sotto si parla di tecnologie abilitanti sopra si parla di campi applicativi quindi è una galassia di cose molto differenziate ma alla fine si basano tutte sul fatto che tu hai un documento devi archiviarlo devi indicizzarlo devi renderlo ricercabile e devi gestirne il ciclo di vita queste sono questa figura mi l'ho riportata perché mi piaceva perché dentro un sistema di gestione della conoscenza c'è di tutto come avere un animale che ti dà carne uova latte tutto contemporaneamente perché ciascuno ci sono sistemi che sono diventati dei mostri un po' come questo proprio perché per essere utili devono fare tutto si è passati da sistemi che erano più verticali per cui c'erano prodotti separati per ciascuna di queste funzioni ma il problema è che i prodotti separati che poi a un certo punto ti accorgi che l'informazione che esiste uno e l'informazione che esiste l'altro in realtà si sovrappongono molto e allora c'è questa spinta sempre di più a centralizzare perlomeno la gestione dell'informazione e poi sopra ci costruisci per carità le interfacce verticali specifiche ci mancherebbe ancora però almeno pescano tutti della stessa informazione con i povi vantaggi ecco questo fa sì che un usiamo adesso la sigla ACM Enterprise Content Management un sistema di gestione di contenuti di scala enterprise di fatto debba gestire un processo che vive su queste macrofasi e che sono riassunte da questa figurina qui stradale di cui adesso andiamo un attimo a approfondire fatemene prendere solamente una versione più leggibile dunque dove è? era qui ok materiale qua questo qui questa figura che adesso andiamo a zoomare e poi a parlarne qui dicevamo un sistema di gestione dei contenuti non è un prodotto unico monolitico ma una serie di vari moduli di vari componenti che gestiscono le fasi principali che qui sono vedete che vanno dall'input all'output del processo la cattura la memorizzazione la preservazione e il delivery poi la fruizione essenzialmente queste sono le fasi principali e poi in mezzo c'è la gestione quindi da qualche parte i documenti entrano e abbiamo tutti i canali di ingresso per questi documenti che vanno da human created information quindi informazioni create dagli umani sotto forma di documenti word, excel, powerpoint dei moduli compilati online rich media quindi video, audio vabbè microfilm non si usano più tanto oppure documenti creati dalle applicazioni tipicamente altri sistemi informativi che pompano dentro informazioni mi pompano dentro un file XML con delle informazioni che escono dai loro sistemi miei aziendali o di altre aziende e sono tutte informazioni che mi arrivano dentro ad esempio dall'IRP arrivano ogni giorno tonnellate di informazioni e questi due tipi di documenti creati dall'uomo creati da altri sistemi vengono elaborati qui ci sono alcune sigle poi vedremo in dettaglio alcune di queste cose acquisiti in certo senso importati e poi classificati quindi le tecnologie di importazione qui sopra ci sono tutte l'OCR sta per riconoscimento dei caratteri quindi le tecnologie di riconoscimento dei contenuti dei documenti voi cartacei o anche testuali anche diciamo così elettronici ma di struttura non nota a priori da cui voglio poi distrarre delle informazioni quindi tutte queste parti di acquisizione e classificazione dopodiché i documenti li ho raccolti li ho importati una volta che li ho importati ho questo ciclo che si chiama di manage qui che di fatto gestisce il workflow gestisce il processo di business in cui questi documenti vivono una volta che sono dentro il sistema possono subire delle trasformazioni questo è il ciclo di manage ovviamente grandi quantità di documentazione significano problemi o meglio se porsi problema di avere dei terabyte a disposizione con che tecnologie li utilizzo come li rendo disponibili all'intera azienda e quindi sono tutte le problematiche di qui vedete i tre livelli come mi interfaccio con il sistema di memorizzazione come organizzo le informazioni a livello di database di data warehouse di semplicemente file salvati su un disco e poi c'è tutta la parte fisica cioè le macchine i rack gli hard disk le decine e centinaia di hard disk che contengono le informazioni quindi c'è tutta la parte di memorizzazione quindi un documento nel momento in cui arriva dall'importazione prima di tutto viene infilato qua dentro nello store e poi in funzione del tipo di documento che è di cosa succede può uscire farsi un giro nel manage a seconda di ciò che devo farci e poi ovviamente le nuove versioni verranno memorizzate sopra quindi la parte di storage è tutt'altro che banale proprio perché stiamo parlando di grossi modi di quantità di dati e la disponibilità cioè poter accedere ai documenti in qualunque momento e da qualunque luogo e l'affidabilità cioè essere sicuri di non perderli non cancellare i perbaglio avere i backup avere le ridondanze eccetera sono le due caratteristiche principali oltre ovviamente alle prestazioni e le velocità e queste due cose si possono fare ma costano tanto dopodiché questo storage però è lo storage di lavoro al di sotto di questa figura c'è un'altra via d'uscita che è un'archiviazione a lungo termine se io per vari scopi compreso quello legale gestisco i documenti ma poi un sotto insieme magari non tutti questi documenti non prega niente forse della mail che ho spedito 15 anni fa però magari di alcuni documenti è necessario preservare a lungo termine allora al di là dello storage che è attaccato al sistema informativo devo avere un sistema di memorizzazione separato pensato per l'archiviazione a lungo termine magari cose che nell'operatività normale non servono ma servono a lungo termine non sto parlando di 6 mesi o 10 anni magari sto parlando di 50 anni allora nessuno di noi sa come sarà l'informatica tra 50 anni 50 anni fa non c'era quindi diventa difficile prevedere cosa sarà tra 50 anni e quindi le tecnologie che usiamo oggi sia in termini di formati fisici supporti fisici sia in termini di formati di file io ricordo appunto non sono così vecchio ma i primi personal computer avevano dei word processor ma se voi aveste ancora oggi cioè non diversi se voi aveste oggi un file che avete creato parliamo negli anni 90 quindi 20 anni fa è molto probabile che non riuscire ad aprirlo perché quei word processor il formato di file con cui ce l'avano quei word processor non sono più supportati dei word processor di oggi se non magari alcuni specializzati quindi non è solo un problema di avere il file oppure avete un documento che è su floppy allora trovate una macchina che abbia ancora un floppy disk ma quelli da 3 pollici ma quelli da 5 pollici forse voi non l'avete mai visto però erano nel punto negli anni di personal computer che sono nati da personal computer anche negli anni 90 andavano per la maggiore i floppy a 5 pollici e quindi è un continuo travasare informazione da un supporto di un certo tipo a un supporto più nuovo perché magari tu hai salvato su un nastro ma nel frattempo i lettori di nastro con quella tecnologia lì non sono più disponibili allora devi prendere le informazioni che avevi archiviato e devi travasarle su una tecnologia nuova e magari devi anche cambiare il formato dei file aggiornarlo eccetera ad esempio non so se avete mai sentito parlare di un formato che si chiama pdfa che è una versione un sotto insieme del formato pdf che noi tutti conosciamo che è stato proprio pensato per l'archiviazione a lungo termine è stato standardizzato dall'iso e dice questo qua è un formato che se tu devi salvare un documento che deve ancora essere leggibile tra 20 anni o 50 non puoi fare un pdf qualunque perché il pdf normalmente dipende da alcuna serie di informazioni anche se sono i font che usi il fatto di avere dentro delle caratteristiche che poi lo sappiamo di versione in versione di acrobat ci sono alcuni file che nelle versioni vecchie non vengono più letti e così via nelle versioni vecchie del software non vengono più letti e quindi sono stati definiti dei formati la sta appunto sta per archiviazione che sono magari meno potenti dei formati che usiamo normalmente ma hanno la garanzia sono stati studiati proprio per poter essere ancora leggibili in futuro perché appunto hanno all'interno tutte le informazioni sui font tutte le informazioni che permettono di poterli aprire in futuro e poi ci sono i supporti fisici tra l'altro noi parliamo di elettronica ma in realtà l'unico supporto che sappiamo che è in grado di resistere ai secoli è la carta tutti gli altri tipi di supporti magnetici elettronici ottici non hanno una storia di secoli sono stati inventati nei decenni scorsi quindi quando tu salvi qualcosa su un DVD non sai per quanto durerà questo DVD nessuno lo sa se tra dieci anni sarà ancora leggibile al di là del fatto di avere il lettore del DVD ma nessuno sa se sarà ancora leggibile se il supporto si degraderà tra dieci anni 20 o 50 e quindi chi fa le cose seriamente archiviare a lungo termine significa stampare sigillare e mettere in frigo frigo non in frigorifero ma in una camera stagna perché noi sappiamo da 5.000 anni fa che si sono arrivati i papiri egizi su cui le cose scritte sopra sono rimaste allora questa è l'unica oltre all'incisione i rupestri ma sono un po' complicate da gestire ecco è l'unico tipo di informazione che sappiamo per certo che è in grado di sopravvivere ai secoli poi magari le stampiamo in un formato che sia facile da acquisire con gli scanner che ci saranno tra cent'anni quindi non usare i fonti strambi ma fonti appositi per poter ma in alcune aziende sono proprio obbligate a fare questo per rimanere a Torino ricordo che è andato una volta in Alenia aeronautica e loro hanno questo problema la documentazione di un aereo che va da come si chiama la distinta base di tutte le vitine che compongono l'aereo ai piani di collaudo ai piani di manutenzione cioè stiamo parlando di migliaia di pagine e quella mi pare che deve essere consultabile per 30 anni almeno oggi il veivolo ha una vita operativa che è di quell'ordine lì e quindi tu a distanza di tempo magari succede poi un incidente allora vai a vedere perché quella letta lì si è piegata in quelle condizioni e devi tornare ai dati di progetto di 30-35 anni fa e loro hanno un archivio cartaceo dei progetti che hanno fatto 30 anni fa era l'unico archivio che c'era perché di fatto molti disegni erano ancora fatti a mano i disegni erano fatti a mano punto il testo a volte cominciava già ad essere battuto o disponibile in formato elettronico ma anche i progetti che fanno oggi con tutti i sistemi più belli alla fine poi vengono archiviati anche in forma cartacea perché non si sa da 30 anni e questi sono requisiti specifici di un settore industriale di sicurezza e di tracciabilità dell'informazione quindi anche questo qua è un problema è la differenza tra fare il sito per il corso in cui ci metto il pdf e ce lo condividiamo e avere come sempre un sito enterprise in cui sì il documento è sempre lo stesso ciò che devo fare è salvarlo e renderlo disponibile ma intorno di contorno c'è una complessità di questo genere poi abbiamo la parte di delivery quindi la via di uscita una volta che questi documenti fanno il giro le vie di uscita sono partiamo da qua via di uscita su carta via di uscita su web o via di uscita su dispositivi mobili che sta diventando sempre più importante tu hai una forza vendita che è sul territorio e questi qui hanno bisogno di accedere ai prezzi e alle offerte la piazzata degli ordini non è un problema del documentale è un problema più del gestionale ma però avere informazioni disponibili sempre aggiornate e quindi sono questi canali di distribuzione che vanno a pescare ovviamente dal sistema di gestione dei contenuti centrale di mezzo ci sono sicuramente una barriera nel senso che non tutti possono vedere tutto soprattutto i concorrenti e quindi ho tutto un problema di sicurezza di ciò che riesco a far uscire se fino qua ho fatto entrare e ho tenuto in casa poi se devo far uscire devo far uscire solamente filtrandolo e poiché i canali di distribuzione sono i più diversi molto spesso c'è un problema di conversione di formato c'è un documento che è stato salvato in un certo modo io devo rivederlo in un formato da pdf da html o viceversa per fare un esempio banale per permettere di fare in modo che quel documento che magari appunto era scritto in word 2.0 che oggi word 2010 non è in grado di leggere ma io devo essere in grado di leggerlo lì e trasformarlo in qualche cosa che sia gestibile dalla catena di distribuzione che sta a destra oggi il documento magari è entrato dieci anni fa e io quel documento là direttamente non riesco a aprirlo ma devo riuscire almeno a trasformarlo in una forma che oggi riesca a leggere e dopo di che e qui in mezzo in questa rotonda qua c'è questo enterprise search che è tutte le funzionalità di ricerca che decidono che cosa devo uscire che cosa devo tirare fuori da tutto questo mio storage che è l'altra tecnologia importante dopodiché vabbè qui si parla di outsourcing nel senso che alcuni processi alcuni sottoprocessi possono essere anche gestiti oggi si parla tantissimo di cloud computing in cui tu fai l'outsourcing della memorizzazione lo storage non te lo metti in casa ma lo dai in gestione a qualcuno di esterno che ha i data center i data center plurale non singolare perché in un posto solo può capitare un terremoto può capitare un'ondazione e non puoi perdere tutto quindi i grossi fornitori di cloud hanno data center sparsi nei vari continenti proprio per quel motivo lì oppure alcuni fai di elaborazione ricerca memorizzazione si possono pensare a livello outsourcing questa è una soluzione di tipo tecnico non tecnologico integrazione con servizi non si parla di outsourcing del lavoro del servizio ecco questa è la se vogliamo la figura complessiva i vari ciascuna di queste scatoline dà di per sé una serie di mal di testa che possiamo abbiamo forse oggi cominciato a immaginare e ci sono ovviamente grosse opportunità per vari tipi di aziende io qua tra l'altro queste slide le ho prese in parte da questo sito che di fatto è il sito di un'associazione di aziende che lavora in questo settore ecco quello che è interessante vedere è dare un'occhiata a queste sono le aziende principali che hanno fondato il consorzio poi ne vediamo delle altre dopo che tipo di aziende ci sono che lavorano in questo settore è molto curioso perché ci sono dalle aziende HP, IBM no classiche vabbè poi ci aggiungiamo Microsoft e Google se vogliamo ma Google è già ancora di un tipo diverso classiche del settore ICT produttori di hardware HP e IBM producono hardware fanno il loro business fare macchine fare ferro abbiamo Fujitsu che produce anche hard disk dischi storage ci sono produttori di software ad esempio Oracle e Microsoft tra l'altro Oracle ha un certo approccio che chiaramente tutti conosciamo il database Microsoft ha fatto un colpo enorme quando ha rilasciato un suo prodotto che si chiama SharePoint che è di fatto un sistema di gestione documentale molto semplificato però può essere adatto alla piccola media impresa SharePoint non è altro che di fatto un server che tu metti sulla rete locale che è accessibile dalle macchine Windows puoi salvare come salvare documenti su un disco di rete ma poi questi sono disponibili anche via web e poi quei documenti sono integrati con altre funzionalità di collaborazione tipo l'agenda i gruppi di lavoro gli appuntamenti il wiki documentazione date scadenze workflow una cosa minimo che però è molto utilizzato anche perché relativamente costa poco è facile da utilizzare quindi non è tanto enterprise se vogliamo small enterprise che poi è il focus della Microsoft rivolgersi alle piccole aziende e poi ci sono dei player come Konica Minolta come Canon poi qua non c'è anche se è molto attivo la Xerox ma fa parte del consorzio concorrente a questi quindi qui ci sono alcuni nomi ma non sono gli unici che lavorano in questo settore Epson che è gente che lavora nelle tecnologie di stampa e di acquisizione che sono una parte essenziale di tutto il processo poi avete un po' di tutto nel senso che non so esattamente la Canon cosa faccia ricordavo alcuni prodotti della Xerox che ti vendono sì il fotocopiatice barra scanner barra tutto quello che vuoi ma poi insieme ti vendono anche se vuoi il software che è in grado di acquisire e catalogare tutti questi pdf che hai acquisito che hai scansito poi magari il software che ti vende la Xerox o la Canon sono un po' limitati perché il loro business principalmente è solo venderti la macchina e quindi per avere un sistema più complesso ti vai a devi andare anche a parlare con qualche fornitore di software vero fornitore di software ebbi sono specializzati in scansione sul riconoscimento dei caratteri quindi dall'immagine al testo Autonomy è un'azienda che è specializzata famosissima importantissima in questo settore sulla ricerca dei documenti il motore di ricerca alla fine il motore documentale sono quelli che hanno di fatto il motore di ricerca migliore in questo settore sono diventati famosi su quello avevano quel prodotto erano capaci a fare la ricerca dei documenti e va bene di fatto poi il loro motore è un prodotto a sé stante oppure il motore stesso viene licenziato incluso in prodotti di terze parti proprio perché c'è una versione c'è una concorrente open source che chiaramente qua non c'è perché chi parla di aziende non di open source che è l'Using del progetto Apaci che però è molto chiaramente più rude da utilizzare e tutto sommato a prestazioni inferiori quindi è un settore che coinvolge appunto fornitori di hardware fornitori di imaging quindi stampe, scanner software specializzati molto verticali molto spinti tutti insieme di fatto per poter costruire un sistema quindi un mondo abbastanza complesso poco noto tutto sommato ma abbastanza complesso ecco questo qua è un esempio di una matrice in cui si fa vedere adesso non entriamo nel dettaglio per una serie di fornitori che sono i membri di questo consorzio quindi non sono tutti i fornitori possibili e per una serie di funzionalità o quello che chiama l'expertise cioè le cose che sanno fare questi fornitori qual è la matrice qual è il mapping e si vede che sono varie aree e i vari fornitori coprono alcune di queste aree non necessariamente tutte e quindi non c'è nessuno di questi fornitori di tecnologia che può dire di coprire tutte le aree vedete che ciascuno non c'è nessuna riga piena di pallini non ti basterà mai avere un fornitore solo o un prodotto solo che faccia tutto dovrai comunque a livello di diciamo così IT settore informazione tecnologica dell'azienda per poter costruire un sistema di gestione di documenti deve comunque prevedere di mettere insieme di integrare componenti provenienti da aziende diverse io adesso qua altre autonomi posso citarvi solo per andare poi a richiamare su un prodotto un esempio di un prodotto le sigle che avevamo visto questo al fresco è uno dei più famosi è un mostro questo è un prodotto open source anche open source anche nella versione commerciale di gestione documentale chi ci ha lavorato non dice più dormire di notte per quanto era complicato gestirlo ci sono stati è diventato diciamo così è famoso uno dei più complessi e dei più completi sistemi open source di gestione documentale so che ci hanno lavorato credo per due o tre anni al CSI Piemonte qui per costruire un sistema documentale da mettere a disposizione di tutte le amministrazioni pubbliche appunto del Piemonte non so se alla fine siano arrivate a qualche cosa di utilizzabile proprio perché la complessità della cosa ma io al di là di al fresco non voglio fare la pubblicità dal fresco anche perché è gratuito ma qui andiamo a trovare delle sigle che sono più o meno le stesse che abbiamo visto prima però sono richiamate con le stesse funzionalità gestione di documenti record management web content management sarebbe il CMS enterprise collaboration e poi qualche cosa vedi che loro parlano di BBM BBM sta per business process management gestione del processo di business che è quello che noi abbiamo chiamato workflow management quindi ci sono prodotti di questo genere che integrano però questo è un prodotto puramente software tu puoi decidere di usare quello ma poi alla fine ti devi andare a integrare con l'acquisizione con lo storage con eccetera eccetera quindi sono tutti passi molto lunghi da fare allora qua dunque fatemi solo vedere se nella carrellata qui c'è una serie di slide che di fatto sono degli zoom sulla figura che abbiamo visto prima credo di avere toccato i punti principali però vediamo se abbiamo dimenticato qualcosa beh qui la fase di cattura abbiamo detto l'acquisizione i documenti provenienti da fonte diversa lo storage qui parla di gestione del ciclo di vita dell'informazione che ricordate nella figura in alto c'era quella parte store e store non è solo questa slide qua che parla di gestione del ciclo di vita dell'informazione ci sottolinea che lo storage non è solamente un disco come dire facciamo un disco di rete condiviso e salviamo l'informazione lì sopra perché ogni volta che aggiungo un'informazione un documento questo qua deve essere gestito non deve essere semplicemente salvato lì e basta ci sono soluzioni document manager molto più se vogliamo artigianali che dicono beh questo è un reposito e tu salva i file qua poi gira un indicizzatore in pappino e poi ti rende ricercabili i documenti non è questo di cui stiamo parlando stiamo cercando qualcosa in cui dico io questo è la nuova versione del tal documento c'è una nuova versione perché qual è la relazione con la precedente e quindi lo storage stesso deve essere in parte a conoscenza del ciclo di vita del prodotto non è lui a gestire il ciclo di vita ma deve essere in grado di memorizzarlo e la gestione manage era il centro la rotonda centrale del nostro sistema stradale dove qui è citato due volte l'email in questa pagina è citato il workflow quindi di fatto il problema della gestione è riuscire a vedere in modo unificato non dico centralizzato perché il programma di mail continua ad essere un programma di mail però la mail deve essere in qualche modo archiviata nello stesso punto in cui ci sono e poi magari nella mail ce l'ho legato l'ho legato al documento eccetera qui sono sistemi in cui bisogna unificare queste comunicazioni in modo da poter essere da poter mettere in grado il sistema di gestirle e quindi applicare un workflow anche alle mail e le mail sono una cosa rognosissima sinceramente infatti quello che si vede in molti sistemi sto pensando ai sistemi di CRM in cui magari gestisci contatto con gli utenti si l'utente lo fai comunicare via mail ma la mail nel momento in cui arriva viene immediatamente trasformata in un documento elettronico in una serie di form e gli operatori pensate a livello di call center o di supporto all'utenza non mandano mai le mail lavorano direttamente con il sistema informativo che memorizza la mail che è arrivata più tutti i passaggi intermedi che vengono fatti direttamente come documenti interno al sistema poi magari in uscita ti sputa fuori una mail di risposta ma la mail è la tipica cosa molto comoda da utilizzare ma molto difficile da tracciare molto difficile da gestire dal punto di vista del flusso rispondi chi ha risposto ha risposto a tutti ma chi è che deve rispondere a questa che era stata mandata a dieci persone e cose di questo genere quindi ciò che fanno questi sistemi la prima cosa è importare queste informazioni e poi darti un modo di lavorarci sopra con un processo definito se hai una mail di richiesta questa richiesta può arrivare a dieci persone da chi deve essere gestita allora ci vuole qualcuno che scelga chi deve gestire quello oppure il primo che la gestisce la prende e gli altri non la vedono più cosa che normalmente in un sistema di mail non si possono fare quindi la mail diventano un sistema di acquisizione e un sistema di delivery input e output del sistema ma poi all'interno non viene usata non può venire usata fa parte del sistema ma non è usata al suo interno perché non è gestibile e così via ecco si parla di collaborazione appunto centrata sui documenti e beh sui documenti ovviamente stiamo parlando di quello ma la parola chiave qua è collaborazione cioè il documento non nasce da una singola persona non nasce da un'unica versione e quindi c'è il problema di coordinarsi magari sulla costruzione di un documento condiviso e questo va bene da un lato significa evitare i conflitti modifico io modifichi tu e perdiamo il lavoro e questa è la parte più facile dall'altro significa anche fornire proprio degli strumenti di collaborazione di comunicazione banalizziamo una chat che ci permetta di parlare in un canale separato mentre stiamo lavorando entrambi sullo stesso documento per poterci mettere d'accordo ho la possibilità di dire beh io lavoro su questo capitolo tu lavori su quell'altro e poi il sistema da solo l'integro non ci vuole uno che deve fare poi copy and call andare a trovare le parole che sono state modificate e cose di questo genere e questo è tutt'altro che banale tutt'altro che banale perché devo prevedere sia una collaborazione di tipo sincrono che di tipo asincrono io ci lavoro tu ci lavori il giorno dopo non siamo mai collegati insieme allora come facciamo a collaborare come facciamo a scambiarci informazioni ci dobbiamo lasciare dei messaggi delle mail delle note non so se vi è mai capitato di lavorare su una relazione su un documento un po' complesso un po' lungo in collaborazione con altre persone sto pensando a Word ci sono a Word degli strumentini che ti permettono di gestire un minimo di questo processo tipo la possibilità di agire dei commenti di tracciare le revisioni per cui tu quando modifici qualcosa risulta evidenziato cancellato sottolineato in colore in modo che l'altro possa vedere che cosa hai fatto sono strumenti molto grezzi in realtà sono molto sofisticati se poi provate a usarli davvero vi accorgete di quanto è complicato e qui stiamo pensando di portarlo non solamente su un documento che ci scambiamo via mail in tre ma su una cosa molto più grande oppure le collaborazioni tipo sincrono editare contemporaneamente lo stesso documento siamo in un meeting in dieci persone che sono in cinque uffici diversi quindi due qua due là due là e lavoriamo costruiamo insieme un documento costruiamo insieme il verbale della riunione un documento che tutti hanno aperto contemporaneamente tutti possono modificare contemporaneamente cominciano a esserci oggi strumenti di questo genere anche pensando a prodotti specifici Google Documents ci permette di fare questo e uno vede che cosa l'altro sta scrivendo chiaro che richiede una certa esperienza e disciplina nel poter lavorare non per casino detto in termini poco tecnici ma sono strumenti che cominciano a essere richiesti e cominciano a essere disponibili vabbè e poi c'è tutta la parte sui records che aggiungono dei requisiti legali dicevamo ma non entriamo qua nel dettaglio di questi perché poi in realtà è specifico dei singoli settori aziendali e delle singole nazioni e poi c'è la parte web che c'è non c'è nel senso che alcune volte una parte del prodotto è direttamente una parte del processo di documentazione è proprio la creazione di un sito o di una parte di un sito dei contenuti della parte di un sito e quindi è più facile perché tutto sommato quando crei i documenti hai già in mente il sito che li deve ospettare anzi stai creando le pagine del sito non stai più neanche pensando in termini di documenti altre volte il caso più complicato è creare dei siti a partire dalle informazioni esistenti allora questo sistema informativo dovrebbe essere in grado di gestirlo in realtà che io sappia non è poi così automatizzata o automatizzabile la cosa qui dice automatizzare le parti chiave del processo di pubblicazione è bravo però se io ho creato i contenuti pensando già che fosse la pagina web bene altrimenti qui stiamo pensiamo un caso i giornali l'editoria l'editoria nasce con dei contenuti che sono semplici e strutturati che sono gli articoli e questi escono su canali diversi canale stampa canale tablet canale web e provano tutti a pescare dagli stessi contenuti di partenza lì è facile dal punto di vista tecnologico perché l'articolo è una cosa molto ben strutturata poi c'è l'impaginazione ci sono le immagini ma tutto sommato dal punto di vista della varietà di informazione è molto basso la varietà dei tipi diversi di informazione è molto basso i giornalisti ci mettono noi scrivono tante cose ma ad esempio la formatazione non c'è non è importante il testo pur gli ebook è un altro libri elettronici se vogliamo un altro caso particolare che ha dei cicli di vita di pubblicazione molto diversi però di uno dello stesso tipo tu hai bisogno di una versione da fornire in forma digitale e poi formato ePUB di molti ebook in realtà non è altro che HTML un HTML semplificato quindi non è proprio web ma di fatto usa le stesse tecnologie ma allo stesso tempo il stesso contenuto va a stampa quindi c'è il caso in cui devo semplicemente gestire un sito informativo allora ho un CMS di tipo web stand alone a se stante e uso quello c'è il caso in cui invece il sito web o la parte pubblicata online è una parte del mio processo di pubblicazione che devo andare a pescare documenti che fanno parte anche di cicli di vita più complessi e allora qui le cose ovviamente si complicano vabbè qui c'è tutta la parte sui BPM il BPM probabilmente voi l'avete visto nella parte diciamo così dal punto di vista gestionale la rappresentazione dei processi di business questi processi di business che vengono usati per rappresentare l'evoluzione di un prodotto all'interno dell'azienda possono anche descrivere l'evoluzione di un documento o di informazioni documentali con la cosa aggiuntiva che il documento essendo un oggetto già elettronico può essere direttamente gestito dal processo BPM BPM non va più solamente a descrivere un processo ma lo gestisce anche lo attua fa in modo che avvenga su questo sarebbe tutto il capitolo su BPM di cui qualcosa avete già visto l'anno scorso e il resto ci porterebbe lontano vabbè la preservazione dicevamo che i problemi sono qui ci sono alcune figure queste sono le famose schede perforate che per fortuna io non ci ho mai avuto a che fare questi sono i dischetti 5 pollici che appunto quando io ho cominciato a lavorare in questo settore erano l'unico formato di memorizzazione di fatto che era utilizzato questi sono dei nastri magnetici che non credo che siano più utilizzabili oggi questo è ancora più vecchio sono floppy da 8 pollici questi sono i floppy da 3 pollici e mezzo tutta roba che se aveste nel cassetto per carità diventa folklore potete fare finta di ma non sapreste gestire oggi non sapremmo gestire oggi quindi c'è il problema del mezzo fisico che da un lato diventa obsoleto il tipo di dispositivo cioè oggi lettori di floppy da 5 pollici non so più dove trovarli sul mercato non li trovo di sicuro devo trovare da qualche parte uno che ci sia ancora e non sia rotto il mezzo fisico si degrada non so i dati finché la scheda perforata tutto sommato non si degrada neanche più di tanto se la conservo bene sono buchi su un pezzo di carta quindi però tutte le fasi di memorizzazione elettronica magnetica come questa la magnetizzazione ha un periodo di decadimento che rende illeggibili i dati dopo un certo periodo di tempo non vi saprei dire se sono 10 anni se sono 50 dipenderà molto da come è stato registrato dalla qualità della registrazione eccetera ma di fatto diventa a un certo punto diventa illeggibile e poi c'è il terzo punto quello di cui parlavo una volta che anche riuscissi a leggere quel file non è detto che riesca a decodificarlo perché magari è scritto con 20 minuti che sto cercando di ricordarmi com'era il nome del word processor che si usava nei primi personal computer ma warstar eccolo qua tutti usavano warstar tanti anni fa voi non l'avete mai sentito nominare ci sono tonnellate di documenti scritti in warstar che sono inaccessibili a tutti oramai prima di windows l'unico è il vero quello che oggi è Microsoft Word quindi tutti usano quel formato prima dell'avvento di windows c'è un programma che si chiama warstar dimenticato da tutti tranne da chi deve per fortuna non io accedere ancora a quei contenuti e non stiamo parlando di stiamo parlando di 15 anni fa di lì poi è arrivato windows in realtà le prime versioni di word facevano pena la word 2.0 anche la word 2.0 Microsoft Windows word 2.0 provate a prendere un file che non riuscite più a leggerlo neanche su Microsoft Word 2007 2010 non è più in grado di leggere le proprie versioni precedenti ma va bene nessuno se l'ha mai promesso il problema è che l'evoluzione va avanti ma se io poi lo devo fare per altri motivi devo rendermi conto di che cosa può essere letto in futuro e che cosa no e quello che non può essere letto in futuro devo convertirlo devo prenderlo e convertirlo va bene che la capacità di disco aumenta sempre per cui ogni volta che installiamo diciamo così fa il decommissioning di un server cioè hai un server che lo metti in pensione perché di fatto non ce la fa più ne prendi uno nuovo tutti i dati che c'erano sul server precedente li travali su quello nuovo magari non li usi ma li hai lì come archivio poi dovrebbero essere se sono i formati decenti saranno ancora accessibili vabbè poi qui c'è un esempio di canali di delivery e poi c'è qui si inserisce il capitolo su cui che noi non approfondiamo perché l'abbiamo già approfondito decisamente nel mese scorso sulla rappresentazione finora abbiamo parlato di documenti come scatole nere cose che entrano e escono vengono elaborate vengono gestite e poi c'è il problema invece di classificare e di cercare quindi facilitare o obbligare gli autori a fornire dei metadati sensati tutti noi sappiamo o facciamo finta di non sapere che in office word excel powerpoint c'è una serie di proprietà che posso definire al documento di ogni documento posso scrivere le parole chiave posso scrivere la descrizione l'abstack l'autore la data eccetera basta andare in proprietà del documento document properties dov'è questa cosa qua da qualche parte c'è vedete qua queste properties questo documento ha tutta una serie di proprietà che posso aggiungere ma questo è già in tutte le versioni di office ma nessuno di noi quando salva un documento si cura mai di andare a perché lo renderebbero molto più facilmente ricercabile nel momento in cui lo mette in un content management system o in un document management system lui non è scemo sarebbe in grado di leggere queste informazioni e quindi archiviare meglio il documento rendere disponibile il motore di ricerca il problema è che gli autori non lo fanno salvo lo sbatto lì finisce lì quando va bene gli do un nome sensato al file ecco quando va bene perché altrimenti do un nome ultimo punto doc oppure finale punto ppt e non si capisce più che cos'è quindi i metadati sono una soluzione per rendere facilmente ricercabili le informazioni il problema è che nessuno ha voglia tempo e modo di inserirli perché è un processo manuale e complesso tutto sommato allora anche qua nel grosso panorama degli strumenti di gestione dei documenti c'è chi propone di fare classificazione automatica estrazione automatica dei metadati dei documenti cioè voi pensate di prendere un pezzo di carta lo guardate e dice ah ma guarda questo è il bilancio di un'azienda e di questo bilancio ci sono questi tre dati che mi servono mi servono di etichettare il nome dell'azienda l'anno di riferimento il valore di pareggio del bilancio supponiamo quindi questa è una cosa che a mano si fa a colpo d'occhio capisci che cos'è capisci essendo un bilancio quali sono le informazioni che vuoi mettere nel metadati pensate a automatizzare questa cosa che sia un bilancio lo vediamo a occhio però in realtà prendete dieci aziende diverse prendete i loro bilanci sono tutti infatti disegnati riportati pur essendo a norma di legge sono impaginati anche sono impaginati in modo diverso quindi le stesse informazioni pensate a un modo automatico per andare a pescare è tutt'altro che banale e quindi di fatto i risultati ci sono dei prodotti di indiziazione di estrazione automatica dei metadati ma diciamo che possono a livello al cui la tecnologia al giorno d'oggi possono essere usati come ausilio alla classificazione manuale quindi ti estraggono qualche cosa poi comunque ci vuole sempre l'omino con i riguardi perché altrimenti tirano fuori delle schifezze va beh sul tema della classificazione qui è salto perché ne abbiamo parlato in termini di tassonomie antologie eccetera eccetera che di fatto diventano poi la chiave per fare la ricerca la ricerca può lavorare o sul testo completo dei documenti nel caso in cui siano documenti testuali quindi non cartacei non filmati non suoni oppure la ricerca è obbligata a lavorare solamente sui metadati e quindi questo è un altro componente della nostra sistema la ricerca normalmente la si divide in due categorie che è il browsing cioè scorrere i documenti divisi per categorie divisi per cartelle divisi per unità organizzative oppure la ricerca propriamente detta a seconda del tipo di documenti è chiaro che il tipo di ricerca che voglio fare è più adatta una modalità piuttosto che l'altra vabbè qui non abbiamo più tempo perché se no questa potrebbe essere interessante che è interessato a come funziona il motore di ricerca questa è una grafica che lo riassume va bene ecco l'ultima l'ultimo concetto che volevo raccontarvi che volevo citarvi era questo che recentemente si sta un po' invertendo il paradigma della ricerca finora la ricerca era mi siedo davanti al computer e cerco un documento che mi interessa adesso con la disponibilità dei dispositivi mobili e poi chiamiamo il web 2.0 tutte queste belle cose si tende a fare in modo che io che il sistema informativo conosca quali sono i miei interessi magari perché li ho dichiarati o magari perché è il mio ruolo di andare ad un certo tipo e mi fornisca già le informazioni che il sistema informativo pensa che mi siano utili pensiamo che l'esempio banale è quello degli RSS dei blog quindi puoi iscrivere a un certo insieme di blog e quindi sarà il blog stesso che ti manda il contenuto quando c'è un articolo nuovo non sei tu che devi andare a cercarlo definisci in questo senso dei criteri di interesse che non sono solo criteri di ricerca sono qualcosa di più e ci pensa il sistema informativo a informarti tutte le volte che c'è un nuovo contenuto di quella tipologia di quell'interesse e quindi una modalità più push del tipo ti viene informato delle cose che ti potrebbero interessare secondo i criteri che sono stati dati quindi stanno cercando di muoversi anche su questo campo questo tipo di sistema va bene finisco solo con la vignetta che è questa un pochino l'intervento che ci sarà della reply tra due settimane che parlerà di enterprise 2.0 qui infatti anche su questa parte finale un po' sorvolato perché loro ci parleranno proprio su questa parte di collaborazione di diffusione dell'informazione pushing eccetera in un contesto reale che è quello di un loro cliente di cui ti racconteranno noi ci vediamo invece martedì io ci vediamo